C'è chi prova a immaginare una Gaza libera da Hamas dopo la guerra, come il segretario di Stato americano Blinken, che incassa l'appoggio del fragile Abu Mazen. C'è chi vive sotto le bombe, nella striscia, e chi a Tel Aviv aspetta ancora i familiari rapiti. C'è il campo militare, con l'avanzata degli israeliani e le minacce che arrivano dall'Iran. C'è una riforma costituzionale che si scontra con il silenzio di Mattarella e i dubbi di tanti esperti. Oggi è lunedì 6 novembre, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Imporre ora un cessate il fuoco, dice Anthony Blinken, permetterebbe a Hamas di riorganizzarsi e ripetere quello che ha fatto il 7 ottobre scorso. Cosa diversa, invece, sostiene il segretario di Stato americano, è una pausa umanitaria a Gaza, necessaria e appoggiata dalla Casa Bianca. Dopo aver rassicurato a Tel Aviv il premier israeliano Netanyahu, ma non aver ricevuto in cambio altrettante rassicurazioni, Blinken, per conto di Joe Biden, va ad Amman, in Giordania, a dialogare con i leader regionali. Il suo itinerario diplomatico prevede l'Iraq, la Turchia, oggi, e soprattutto Ramallah. Qui, per la prima volta in West Bank, dallo scoppio del conflitto, gli Stati Uniti incassano il supporto di Abu Mazen, con il vecchio capo dell'autorità nazionale palestinese che apre a uno scenario di speranza per il futuro. L'ANP si assumerà responsabilità a Gaza in una soluzione politica globale, dice il leader palestinese, purtroppo screditato agli occhi di molti del suo popolo. Il piano di Blinken prevede il rientro dei palestinesi più dialoganti al governo della Striscia, e per quanto di difficile realizzazione, sembra incontrare il favore anche degli altri paesi arabi. Per pensare al dopo però vanno fermati i combattimenti. Davanti ai quasi 10.000 morti dal 7 ottobre ad oggi, una pausa serve. A chiederla, per far entrare gli aiuti ai civili, è anche il francese Emmanuel Macron, che convoca per questo giovedì una conferenza umanitaria a Parigi, mentre domani a Tokyo si incontrano i ministri degli esteri del G7. Intanto a Gaza. Nella striscia continuano i bombardamenti. A nord un'ambulanza viene colpita da un missile israeliano, 15 morti, secondo Hamas. Storia differente invece per Israele, che accusa i terroristi di usare le vetture mediche per spostarsi e quindi proteggersi dal fuoco, e di fare degli ospedali uno scudo per le loro attività militari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 102 attacchi a strutture mediche dall'inizio della guerra. Per l'ONU gli svollati interni a Gaza sono quasi un milione e mezzo. Nel frattempo a sud il valico di Rafa viene chiuso agli stranieri. L'assedio va avanti. Abbiamo completamente circondato Gaza, giura l'esercito israeliano. Sul campo i suoi carri armati scortano i bulldozer che spianano le macerie in cerca del nemico. I uomini dello Zahal imbracciano i fucili, mattemono i cecchini, le trappole e i tunnel. Nei cunicoli sotterranei si nascondono i miliziani islamici pronti a sparare razzi, direttamente contro gli esseri umani, non solo contro i corazzati. Dall'alto i missili piombano senza avvertire. Circa 50 le vittime nel campo per rifugiati al Maghazi, nel nord. L'IDF esulta per i 2500 obiettivi colpiti dall'inizio dell'intervento a terra nella regione palestinese, finché non verranno riportati a casa i 241 staggi. Per Tel Aviv l'operazione prosegue. Nel frattempo a Teheran arriva una delegazione di Hamas e l'Iran minaccia gli Stati Uniti. Cessate il fuoco o verrete duramente colpiti. Poi al TG1 il ministro degli esseri iraniano Hossein Amir Abdullahian dice l'Italia deve preoccuparsi per i suoi soldati in Libano, aggiungendo che la guerra si espanderà inevitabilmente se Israele continuerà con i suoi attacchi contro i civili a Gaza. Ma a Tel Aviv scoppia la bufera politica, con l'estrema destra che alza il livello della tensione giocando col fuoco. Il ministro israeliano della tradizione ebraica Mikhail Yahu definisce il lancio di una bomba atomica su Gaza come un'opzione. Parole e scenari terrificanti, che sommergono di critiche Benjamin Netanyahu, tanto da spingere il premier a sospenderlo. Io considero questa la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia. Le parole di Giorgia Meloni, pronunciate venerdì scorso in conferenza stampa, pongono di nuovo il paese davanti a una riforma costituzionale. Sarà, se approvato dal Parlamento a maggioranza qualificata, cosa ben difficile. O dal popolo con referendum, al momento in proiezione altrettanto complicato, tanto che Meloni già lavora al quesito, che vuole molto semplice e concentrato sul concetto di elezione popolare. In ogni modo, se la riforma passerà, sarà premierato all'italiana, quindi elezione diretta del premier. Una soluzione mai vista in altre democrazie occidentali. Sentiamo la ministra Casellati, che firma questa riforma. Poggia su due capisaldi. Uno è dare stabilità e durata ai governi, che sono stati 68 in 75 anni di storia repubblicana, con una durata media di 14 mesi. E l'altro è quello di restituire voce ai cittadini che per troppo tempo hanno riscontrato l'irrilevanza del loro voto. Storcono il naso i costituzionalisti, per il depotenziamento del Presidente della Repubblica, ma anche per il premio di maggioranza fissato al 55%. Emergono crepe anche a destra, per esempio Marcello Pera, ex Presidente del Senato, oggi meloniano, parla di pasticciaccio. Si ricompatta l'opposizione, da Schlein a Conte fino a Calende e Fratoianni, tutti uniti contro l'idea di un uomo forte al comando. Renzi invece, con qualche modifica, ci sta. Intanto domani il Presidente Sergio Mattarella va in Asia, passerà cinque giorni tra Corea del Sud e Uzbekistan, un viaggio che cade durante un periodo di forte pressione internazionale, con i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, e interna, con la proposta appunto di riforma avanzata dal governo e ancora non commentata dal Quirinale. Il suo silenzio anche da lì Pisa. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.